Simone Peterzano è stato un bravo pittore della seconda metà del Cinquecento. Oggi è noto soprattutto perché è stato il maestro del Caravaggio. Certo, si tratta di un caso eclatante dove l'allievo ha veramente superato il maestro. Simone Peterzano però ha dimostrato di essere un grande pittore. Basta andare in giro per Milano e vedere i lavori che ha lasciato, il compianto sul Cristo morto in San Fedele o gli affreschi nella Certosa di Garignano. Un po' sfortunato perché Bergamo finalmente gli aveva dedicato una grande mostra che è stata inaugurata proprio nel periodo del Covid e quindi come possiamo immaginare è stata ben poco visitata. In quell'occasione però sono stati restaurati due grandi teleri, due opere bellissime che si trovano nella chiesa dei Santi Paolo e Barnaba a Milano. L'invito è quello di andare in questa chiesa, di vedere e ammirare dal vivo queste opere per rendersi conto veramente della qualità, del valore della pittura del Peterzano, del perché l'adolescente Michelangelo Merisi proprio gli è stato affidato per imparare tutti i segreti dell'arte e del dipingere. Che cosa rappresentano questi due teleri? Rappresentano la chiamata, la vocazione appunto dei Santi Paolo e Barnaba e l'altro un miracolo e poi la predicazione nella città di Listra. Sono opere splendide, sono opere che furono acclamate dai contemporanei dove il Peterzano riesce veramente a fondere la tradizione che gli era propria, cioè quella veneziana del colore veneto, con invece la tradizione locale, cioè quella del naturalismo lombardo. Opere che piacevano molto a San Carlo Borromeo che in quegli anni appunto era arcivescovo di Milano e opere che seguono proprio lo spirito, diciamo così, del concilio di Trento, del concilio di quegli anni, di quell'epoca. Opere che piacquero molto ai contemporanei senza suscitare però quei clamori, quei turbamenti che invece quel suo stesso allievo, Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, susciterà a Roma un quarto di secolo più tardi.